E' riuscito nell'impresa di pagare qualcosa come 35.000 euro per un telefono del valore di 400 che peraltro non gli è stato mai recapitato. Incredibile ma vera la storia del giovane di Bagnoli Irpino, su quale hanno avuto buon gioco i due truffatori che avevano messo in vendita online un iPhone 14. Il suo bonifico ne è andato a buon fine, gli scrivevano subito dopo ogni transazione che la vittima aveva effettuato attraverso la propria banca bonificando la somma di 400 euro. La cosa è andata avanti per 87 volte e per 87 volte il giovane ha bonificato ogni volta 400 euro ai truffatori. Quando i due hanno deciso che poteva bastare così, il giovane al tirpino si è messo in attesa del telefonino che naturalmente non è mai arrivato a destinazione, ha cercato di contattare i meditori ma quelli nel frattempo si sono resi reperibili su tutte le utenze precedentemente utilizzate. Soltanto a quel punto, 35.000 euro dopo, il giovane ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri che al termine di minuziose indagini hanno ufficializzato la truffa subita e identificato i truffatori. Un uomo e una donna, residenti in provincia di Siracusa, già noti alle forze dell'ordine per reati analoghi, che sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria.